Siamo pronti Pronti Ma non cadono Siamo pronti Perché non giochi con loro? Perché quel carrello è rubato e io non voglio Da, cominciamo Mi hai fatto perdere la battuta Scusa Perché Rendi sta lì? Perché Rendi non ha una lista Ormai è adulto e è vaccinato Può fare quello che gli fare Scusate, è troppo lungo No, scusate davvero Adesso Perché non giochi con loro? Perché quel carrello è rubato e io non voglio saperne niente E perché Rendi sta lì? Perché Rendi non ha una lista Si vede molto? Abbastanza Leggere attentamente le avvertenze Non somministrare i bambini al di sopra dei 99 anni Il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali indesiderati Anche gravi quali Allegheie, spensinatezza In soggetti particolarmente sensibili Risate a crepa pelle Se i sintomi persistono Consultare il teatro otto Non somministrare i bambini al di sopra dei calcini